Pronti per la main card? Chiamiamo i primi combattenti. Allora, abbiamo per la categoria 84 kg angolo blu del team greci Nicolae Leonard. Un bel applauso. Si fa sempre più dura qui. Angolo rosso del team Palombi, Emanuele Palombi. Un bel applauso. Non si sente qui. Ricordiamo questi dimensionisti. Emanuele Palombi, Emanuele Palombi, Emanuele Palombi. Emanuele Palombi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.